Questa è la storia di un ragazzo che crede nella propria passione e cerca di trasmettere tale passione ad altre persone, di incoraggiarle in qualche modo. Ebbene sì, sono già arrivato a due anni di calisthenics. Sono stati due anni intensi, ma se devo riguardare indietro con la mente, non mi ricordo molto. Riguardare certi miei video di quando iniziai, mi fa venire da sorridere. La prima volta che feci qualcosa a corpo libero, sembrava a me stesso che avessi fatto chissà cosa. Il mio primo tentativo di planche. La prima volta che provai un front liver. Il mio primo tentativo di back liver. È il mio primo tentativo dell'Human Flag. Riguardare di come assurdamente mi allenavo. Riguardare di come assurdo. Il mio primo tentativo di fargare indietro. Rimano. Grazie a tutti. Ma intanto miglioravo. Grazie a tutti. Riguardare i miei fallimenti. Se vi state chiedendo se mi ha fatto male, la risposta è sì. E che palle! Ho sofferto, come è giusto che sia. Ormai ho imparato che senza sofferenza non si ottiene nulla. Ma ho anche imparato che il non arrendersi porta le famose soddisfazioni. Oh! 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 Grazie per la visione 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 Non arrendetevi mai gente Per qualsiasi cosa Io lo dico in continuazione Se cadete dovete rialzarvi E continuare per raggiungere l'obiettivo che vi siete preposti La strada è lunga La strada è lunga ma non impossibile da percorrere Grazie per la visione